siamo qua al baglio della luna stiamo preparando è finita ora ora la confettata siamo in anticipo sui tempi e attualmente gli sposi stanno mangiando il secondo dopodiché andiamo al taglio della torta stiamo in attesa siamo in attesa del pasticcere per la torta che verrà fatta qua a bordo di piscina ecco il tavolo già posizionato manca solo la torta e laggiù prosegue la festa